Andrea Mazzucchelli al termine di una grande partita giocata contro Omegna, contro la prima in classifica del girone, ti sei fatto trovare pronto come al solito con la tua carica di aggressività ma con i 17 punti segnati e con delle bombe da 3 che hanno un po' spaccato la partita in alcuni momenti della gara, soprattutto nel terzo e nel quarto periodo. Le tue impressioni a caldo dopo questa vittoria? Una grandissima vittoria a cui abbiamo lavorato molto in settimana con tantissimi dettagli a cui cercare di stare attenti e in gran parte sotto l'aspetto della fisicità siamo riusciti a concretizzare. Abbiamo peccato ogni tanto su qualche aiuto sotto canestro, avevano dei lunghi molto di stazza molto grosse per questa serie e un po' sulla pressione a tutto campo che è quello su cui Andrea cerca di stimolarci ogni giorno a fare. Si poteva fare di più però dietro abbiamo tenuto botta anche con dei falli duri perché ci stanno per evitare canestri facili. Abbiamo gestito un vantaggio consistente anche se alla fine abbiamo mollato un attimino ma con un paio di canestri siamo riusciti ad arrivare fino al quarantesimo in vantaggio e a portare a casa questa vittoria bellissima per la cornice di pubblico. Siamo felicissimi e molto importante per noi. Ecco la cornice di pubblico come vi sentite di fronte al pubblico che oggi è stato un pubblico delle grandi occasioni? Sì ho seguito tutta la sponsorizzazione della partita diciamo e mi ha fatto molto piacere che la città abbia risposto così bene anche se da Omenia c'erano dei tifosi comunque anche tutta la tribuna dietro le panchine era gremita di nostri tifosi. Anche la coreografia bellissima ci hanno dato una grossa mano una grossa spinta e diciamo che la vittoria ha aiutato a aizzare il pubblico poi. Grazie. Grazie a voi.